Drei Erlantag, in tedesco significa la triplice assemblea legislativa, si riferisce alla seduta congiunta dei consigli provinciali di Trento, Bolzano e Innsbruck. Queste riunioni, che iniziarono il 21 maggio del 91 a Merano, su impulso in particolare dell'allora presidente del Consiglio di Bolzano, Rosa Franzelin, si svolgono con cadenza biennale da oltre 30 anni, alternando le sedi nei tre territori. Obiettivo? Mantenere attivo il dialogo e cercare forme di collaborazione tra realtà con identità e valori comuni. Dal 1996 l'andaustriaco del Foralberg partecipa ai lavori come osservatore senza diritto di voto. Nelle sedute del Drei Erlantag vengono approvati dei documenti di emozione, con i quali ci si rivolge ai governi per azioni in campo economico, sociale e culturale. Spetta poi alla GECT Euregio, il gruppo di cooperazione che collega tra loro i governi dei tre territori, elaborare progetti e investimenti, attuando in concreto le emozioni del Drei Erlantag. Dunque l'Euregio vuole crescere, il Drei Erlantag vuole crescere. Uno degli strumenti sono le emozioni. Filippo De Gasperi è consigliere provinciale di Onda, arriva del Garde. Il 14 e 15 giugno con lei si parlerà di mobilità sostenibile. Quale sarà il senso della sua emozione? Intanto quello di voler dare concretezza a questo Euregio perché si celebra, se ne parla sempre di più, però rischia di rimanere tra i buoni propositi. Quindi noi cerchiamo con questa iniziativa, che è stata condivisa anche da diversi colleghi delle minoranze del Consiglio provinciale, di dare stimolo, di stimolare le giunte a intervenire in maniera coordinata per organizzare, per mettere in rete quelli che sono innanzitutto i trasporti ferroviari. Esistono linee di valle, sia in Trentino come in Alto Adige e anche in Tirolo e io credo che se queste linee lavorassero in una sorta di sistema coordinato ne avrebbero benefici i cittadini e naturalmente anche i nostri ospiti. Poi c'è un tema relativo allo sviluppo di questo tipo di mobilità. Crediamo che, visto anche il contesto, Rivano che notoriamente soffre di un carico di mobilità privata, soffre appunto di un eccesso di presenza di mobilità privata, di fatto i turisti per arrivare a Riva oggi, per arrivare su Garda, oggi possono utilizzare solo l'automobile e anche qui dico appunto in termini di sviluppo l'eureggio si faccia promotrice di investimenti verso appunto la modifica del paradigma, quindi dall'auto privata a infrastrutture di trasporto pubblico, come può essere appunto il treno Roveretto Riva, di cui si parla da tanto tempo, però credo che uno stimolo in più non faccia male. Con poi la proiezione su altre ferrovie, in particolare per il nostro territorio, quella della Val Sugana, che bisogna assolutamente di interventi di miglioramento, senza dimenticare appunto quella da Val di Nona e Val di Sole e anche il progetto che tanti ricordano come decisivo per modificare il sistema della mobilità nel nostro territorio, quello della Trento Canazzei. Ecco, mobilità sostenibile, dunque la mobilità è un segno di economia, di sviluppo, ma è un segno anche magari di uno sviluppo, di un'urbanistica disordinata e perciò investe molti settori. Sì, perché di fatto quello che oggi noi subiamo è il frutto proprio di scelte urbanistiche fatte nel passato, evidentemente condizionate da un certo tipo di contesto, ma che noi oggi vorremmo superare. Vediamo il caso di Trento che quotidianamente viene caricata di 25 mila veicoli che arrivano dall'Alta Val Sugana, pendolari, attività economiche, piccoli artigiani, commercio, naturalmente tutte attività necessarie, utilissime proprio per lo sviluppo economico, ma che per scelte fatte a monte, ovvero indirizzare tutti sulla mobilità individuale privata, porta inquinamento sulla nostra città, abbiamo visto di recente anche le statistiche dove Trento sicuramente non brilla, anzi, e anche il congestionamento dell'infrastruttura stradale. Se sulla Val Sugana, per esempio, si fosse investito sistematicamente, probabilmente una parte consistente del pendolarismo troverebbe lì la risposta e quindi andrebbe ad alleggerire tutte le altre problematiche, quelle dell'eccesso di traffico e quello dell'inquinamento. Ecco, 10 secondi per dire che l'euregio in questi temi potrebbe essere strategico, deve diventare strategico. Per noi sì, se effettivamente l'euregio vuole crescere e vuole uscire dagli aspetti coreografici, per così dire, deve cominciare a impegnarsi per dare una direzione di sviluppo a tutti e tre i territori. Alto Adige in questo ha investito parecchio, la linea della Val Venostra, la linea della Pusteria sono state elettrificate, sono state ammodernate, ci sono territori come il Trentino che forse sono rimasti un po' indietro su questi aspetti e quindi credo che tutti insieme si possa trovare gli stimoli, anche gli esempi per dare una strategia di sviluppo più coerente con le tante parole che abbiamo speso all'intero territorio. Ecco, dunque è necessaria una spinta forte del Dryer Lantag e anche questo significa e vuole significare un euregio che cresce. Grazie a Filippo De Gasperi, consigliere di Honda, grazie a De Gasperi e noi ci rivediamo su altri temi e con altri ospiti sempre per Dryer Lantag, l'euregio che cresce. Grazie a tutti.